Ciao! Che ci fai lì? Aspetto sabato. E perché? Il mio papà mi viene a prendere. Però non è sabato oggi. Tutti qua fuori! Il signor Mathieu, il vostro nuovo sorvegliante, disegnerà il primo di voi da punire. Tu hai proprio una gran faccia da stronzo. Tenga bene a mente questo nome. Morange. Faccia d'angelo, ma col diavolo in corpo. Non si fidi di lui. Dammi qua! Ridatemela! Datemi quella roba. Problemi, Mathieu? No, niente. È della musica. Per farne che? Un coro. Io non le so le canzoni. Non fa niente, te ne insegnerò io. C'è da lavorarci, ma hai una bella voce da baritono. Una voce da cosa? Da baritono non è un insulto. Hai visto, Morange? Abbiamo un vero coro. Io me ne frego. A partire da domani, partecipazione obbligatoria al coro. Bisogna farlo uscire da questo collegio. Trovargli una scuola di musica. Potrebbe entrare al Conservatorio di Lione. Io lo seguirò così non prenderà cattive abitudini. Percepisco negli sguardi dei miei ragazzi il desiderio di libertà. Di costruirsi capanna in cima agli alberi. Il non poterlo fare li rende tristi. Non ho detto a tua madre che eri in punizione ma che eri dal dentista. Non tradirmi. Non mi piacciono i suoi modi. Ho l'impressione che a lei non piaccia niente, signor direttore. Silenzio! Li faccia taccere! Silenzio! 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 Silenzio!